pistola a molla mk4 è una colt 45 abbiamo le istruzioni dei bersagli dei bersagli in carta alcuni bersagli che potrete tranquillamente 5 6 bersagli potrete rifotocopiare e moltiplicare come volete una scatolina di pallini a 100 colpi di peso 0 12 e la pistola è una colt 45 modello mk4 esternamente una finitura cromata è fabbricata in taiwan made in taiwan capacità di pallini 12 colpi il caricatore si estrae con questo in questo pulsante i pallini vengono messi nel caricatore con questo comodo sistema si aggancia la parte sotto poi si inseriscono i colpi i quali vanno una volta riempito si preme questa parte qua dietro questo pulsantino e i colpi vengono compressi immediatamente sopra la parte dove debbono uscire pistola di buon peso solida finiture fatte molto bene il funzionamento della pistola è in questa maniera questa parte zigrinata che vedete serve per fare pressione col pollice e l'indice armare il colpo e caricarla a questo punto si può sparare e parte il colpo poi il secondo colpo ovviamente dovrete fare la stessa cosa partire a sempre partire a sempre dal dalla canna uscire ovviamente ben rifinita ben costruita alle doppie sicure per cui sia avanti sia qui che sul retro e questa questa è una sicura il grilletto come potete vedere aziona il cane cane è in vero metallo lo stesso di casi del grilletto per cui la canna lo stesso è in metallo ha delle parti molto ben fatte ha tutti i loghi originali cosa difficile da trovare sia da una parte che dall'altra la marca è kvc e quindi Grazie a tutti.